Il Vescovo di Cireale Antonino Raspanti ha incontrato questa mattina Tampai Rinpoche, priore del convento bianco di Kathmandu in Nepal e stretto collaboratore del Dalai Lama. Tampai, in vista privata da Cireale, ospite di amici, ha conversato amabilmente con il nostro Vescovo e entrambi in impeccabile inglese. L'incontro è stato dunque molto cordiale, all'insegno dell'ecumenismo e nel rispetto reciproco tra religioni.